Esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Rotazioni delle braccia. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua le rotazioni con le mani sulle spalle. Fai attenzione a non sollevare le spalle. Tienile sempre basse e rilassate. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Spinta in alto delle braccia. Via! Esegui tutti i movimenti lentamente in modo da evitare problemi alle spalle. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Spinta posteriori delle braccia. Via! Non forzare la spinta verso l'alto. Fermati quando senti di essere al limite. Esegui un movimento lento e regolare o rischi problemi alle articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Posturale spalle adotte. Via! Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching cervicale. Via! Fai attenzione a non sollevare le spalle. Mantieni le basse rilassate durante tutto l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Via! Non ruotare la testa può aiutarti guardando un punto fisso di fronte a te durante l'esecuzione. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching cervicale. Via! Fai attenzione a non sollevare le spalle. È importante che restino sempre basse e rilassate. Non abbassare o sollevare il mento. Per farlo, guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Posturale spalle addotte. 3, 2, 1, via! Fai attenzione a non piegare le braccia per non perdere gli effetti benefici dell'esercizio. Esegui un movimento lento e fluido per evitare problemi alle spalle. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Allungamento lombare. Via! Fai attenzione a non piegare le braccia durante tutta la sequenza. Esegui tutti i movimenti lentamente in modo da evitare problemi alle articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Posturale spalle addotte. 3, 2, 1, via! Fai attenzione a non piegare la schiena. Per aiutarti, guarda un punto di fronte a te. Esegui un movimento lentamente in modo da evitare problemi alle spalle. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Posturale spalle addotte. Via! Fai attenzione a non abbassare i gomiti. Mantienili sempre all'altezza delle spalle. Non piegare schiena e collo durante l'esercizio. Aiutati guardando un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Posturale per spalle addotte e zona lumbare. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, tieni le gambe poggiate al pavimento. Non forzare la spinta dei gomiti per non causare problemi alle spalle. Fai attenzione a non inarcare eccessivamente la schiena. Non sollevare la testa. Tieni le linee con spalle e schiena e fissa un punto sul pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching addominale. Via! Non sollevare mai il bacino da terra, così aumenterà l'efficacia dell'estensione. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Posturale spalle addotte. 3, 2, 1, via! Non forzare troppo le spalle. Fermati quando sei al limite per evitare problemi alle articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Plank alta. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, puoi poggiare le ginocchia al pavimento. Non sollevare o abbassare il bacino. Testa, spalle e fianchi devono essere sulla stessa linea. Non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Fissa sempre un punto sul pavimento. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Allungamento schiena. 3, 2, 1, via! Non guardare davanti. Rilassa il collo portando la fronte alle ginocchia. Non piegare le braccia. Tienile sempre ben distese. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Triangolo più plank alta. Via! Se non ce la fai, rimani in plank e poggia le ginocchia a terra. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare il collo. La testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, pissa un punto sul pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching femorali. Via! Non piegare le gambe durante tutto l'esercizio, così da mantenere costante l'efficacia. Non piegare il busto. Tienilo sempre ben dritto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! 6, 4, 2, 1, stop! Grazie.